Epica. Un poema epico. Il termine epica deriva dal greco, epos, che significa parola, epica, e in senso più ampio racconto, narrazione, è un componimento letterario in versi che narra le gesta, storiche o leggendarie, di un eroe o di un popolo, mediante le quali si conservava e tramandava la memoria e l'identità di una civiltà o di una classe politica. Un poema epico. Il termine epica deriva dal greco, epos, che significa parola, e in senso più ampio, racconto, narrazione, è un componimento letterario, in versi, che narra le gesta, storiche o leggendarie, di un eroe o di un popolo, mediante le quali si conservava e tramandava la memoria e l'identità di una civiltà, o di una classe politica. Musica. Le quattro stagioni. Di Antonio Vivaldi. L'autunno. Progettazione e creazione. Professor Salvatore Francesco Toscano. Bibliografia. Le informazioni e le immagini sono tratte da Wikipedia, o altri siti. Ciao a tutti, arrivederci, ai prossimi video vi aspettiamo. Fine.